La principale novità dell'organizzazione legislativa del nuovo Consiglio regionale è che le commissioni appena insediate saranno 7, 5 quelle permanenti invece che 6. È stata infatti istituita la quinta commissione su istruzione, formazione, beni e attività culturali, materie prima accorpate ad altre deleghe. Senza aggravi di costo per la cittadinanza. Abbiamo ridotto l'indennità dei presidenti, dei vicepresidenti e dei segretari delle commissioni. Noi ogni risparmio che riusciremo a fare le metteremo a disposizione per tutte quelle realtà che sono in difficoltà. In particolare io proporrò che vengano date queste risorse a chi fino ad oggi non ha avuto ristori e sussidi da parte del governo, in particolare al mondo della cultura, al mondo dello spettacolo. Come da prassi i presidenti di commissione sono di maggioranza, tutti del PD, nessuna presidenza a Italia Viva, mentre i vicepresidenti sono di opposizione. Vediamoli. Prima commissione, affari istituzionali, la commissione per intenderci che dà il via libera al bilancio. Sarà guidata da Giacomo Bugliani, PD, come nella scorsa legislatura. Elisa Tozzi, della Lega, è vicepresidente. Seconda commissione, sviluppo rurale e tutti i temi legati al territorio, dall'agricoltura, all'acqua, all'energia. Ilaria Buggetti, del PD, è presidente. Vittorio Fantozzi, Fratelli d'Italia, vicepresidente. Presidente della terza commissione, sanità e politiche sociali, è Enrico Sostegni, del PD, mentre il vice è Andrea Ulmi, della Lega. La quarta commissione, territorio, ambiente, urbanistica e edilizia, è guidata da Lucia De Robertis, PD, mentre Alessandro Capecchi, fratelli d'Italia, è vicepresidente. Presidente della nuova quinta commissione, cultura e istruzione, è Cristina Giacchi, del PD, mentre la vicepresidenza è di Luciana Bartolini, della Lega. La commissione sulle politiche europee sarà guidata dal PD, Francesco Gazzetti, vice Giovanni Galli, della Lega. Rimane la commissione controllo, che ha il compito di vigilare sull'operato del Consiglio e per questo è guidata dall'opposizione. Presidente è Alessandro Capecchi, di Fratelli d'Italia, mentre Andrea Pieroni, PD, sarà vice. Il nuovo portavoce dell'opposizione è il leghista Marco Landi, al quale spetta, per dirne una, più tempo negli interventi. Se il portavoce dell'opposizione è di fatto un portavoce del solo centrodestra, al Movimento 5 Stelle pesa soprattutto non essere stato inserito, come avevano richiesto, nella commissione ambiente, nemmeno come componente. Quindi noi ci siamo fatti un'idea precisa. Il PD e il centrodestra, insieme nella commissione ambiente, non vogliono seccature di chiunque sostenga posizioni ambientaliste.